Era un venerdì il 4 ottobre del 2019. Nel pomeriggio Trieste si avviava ad un weekend relativamente tranquillo che precedeva quello della Barcolana. Poco dopo le 17 la notizia che avrebbe consegnato quella data alla storia recente della città. Spari in questura. Abbastanza immediata la conferma ma non solo due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego erano stati assassinati da Alejandro Stefan Meran, arrestato per il furto di un ciclomotore. Allo sgomento iniziale Trieste rispose attraverso i propri cittadini che la sera stessa e nei giorni successivi riversarono nei confronti degli agenti caduti, delle loro famiglie e dell'intera polizia un affetto e una partecipazione massiccia pur se silenziosa come solo questa città è in grado di fare. Approfitto anche di questa ricorrenza, triste ricorrenza, anche per ringraziare tutti i cittadini di Trieste, tutta la città per la solidarietà, per la vicinanza che in quell'occasione e in tante altre occasioni ci hanno dimostrato. Ogni anno doverosamente Trieste ricorda quei due ragazzi i figli delle stelle come loro stessi amavano farsi chiamare. Samani il famedio della questura ha ospitato una breve cerimonia cui ha fatto seguito nella chiesa di Sant'Antonio Vecchio una santa messa presente anche il sindaco di piazza. Io sono in questo momento molto vicino ai genitori di questi ragazzi perché il dolore è familiare dei ragazzi, perché il dolore più forte è il loro, perché comunque hanno perso due figli giovanissimi, bravissimi, ragazzi pieni di vita, operativamente eccellenti, quindi una risorsa importante per la questura di Trieste e quindi capisco il loro stato d'animo. E questo è il giorno della riflessione forse d'anteporre persino all'umana e doverosa voglia di giustizia da parte dei familiari delle due vittime e persino di una città spesso ferita ma mai quanto in quel pomeriggio grigio riempitosi improvvisamente di sangue. Il monito è comunque la sicurezza è un bene fondamentale, comunque va preservata e c'è un sistema di sicurezza che arriva fino all'estremo sacrificio per poterlo fare.